Testimone di accezione oggi come camera runner Marco Beta. Allora Marco, come la vedi questa gara? Ma oggi innanzitutto la giornata è stupenda, l'ambiente è sano, tutta gente che ha voglia di divertirsi, di mettersi alla prova e quindi non ci resta altro che partire e avviarci verso la becca. PALLPANI Ciao Sali, sali, sali su Sali, sì, uno Sali a poco più avanti Sali, 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 sali Sali, 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 sali 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 La riempi d'acqua Metti acqua Sali 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti gli enti, gli istituzioni, gli sponsor, grazie ai 370 volontari sul percorso, ma soprattutto grazie a tutti voi che avete reso una gara storica come la vostra becca di nona un evento unico, un evento internazionale. Viva lo sport e viva la becca di nona. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti.